E' giunto alla terza edizione il festival teatrale tra mito e teatro. Roberta Principe, direttore artistico e regista della compagnia Vulimmo Vulà. Noi siamo emozionatissimi di questa terza edizione. Ogni volta, ogni edizione sembra un traguardo lontanissimo e invece poi ci riusciamo. Quest'anno abbiamo ricevuto 44 domande di partecipazione da compagnia di tutta Italia, quindi dal profondo sud, dalla Sicilia, a Padova, a Pordenone. Purtroppo ne dobbiamo scegliere solo 4 e sono le 4 migliori. Riusciamo a fare questa terza edizione con molto entusiasmo e partirà quanto prima, quindi siamo felici di questo traguardo raggiunto. Un'iniziativa che riesce anche a valutare la zona dei Campi Flegrei, in particolare quella di Pozzuoli, dal punto di vista turistico. In che modo? Allora, questa diciamo che è la perla del festival, perché l'associazione Nemea, che si occupa di visite guidate, collabora con noi. Che cosa fa? Accompagna la giornata che ospitiamo queste compagnie, perché le compagnie che partecipano al festival vengono da regioni differenti dalla nostra, quindi dalla Puglia, dal Lazio, eccetera. Oltretutto, poi, in teatro, prima di fare lo spettacolo, loro avranno, da parte di altre associazioni che hanno voluto collaborare, un piccolo spettacolo fatto di musica, poesie, canzoni, videoproiezioni, su Pozzuoli, quindi che raccontano in un quarto d'ora la loro versione di Pozzuoli. E poi il maestro Antonio Sabettini regalerà i suoi dimostri, che saranno carichi della nostra cultura. Quando comincia il festival? Partiamo il 6 aprile, che è la prima domenica, saranno sempre di domenica, saltiamo solo quella di parte del 20, quindi facciamo 6, 3, 27, 4 maggio e poi c'è la premiazione l'11 maggio, perché è un concorso. Quindi, alla fine, insomma, ci sarà lo spettacolo della Compagnia Volimmo Volà e a seguire la cerimonia di premiazione. Grazie.